Più su, anche fino a Master, non importa il mezzo, se sei bravo e ti riesco a metterci un gioco Ecco, fai finta così, Zonio, fai finta che fino a Diamond 4 non conta un cazzo Ecco, quindi arriva pure Diamond col tuo Jax No, comunque davvero, cioè al di là della bravura, scusa, guarda i miei game Io gioco merdata e vinco lo stesso, vuoi che con Jax tu non riesca a vincere l'Ouelo Che Jax è uno dei champ che red clicka meglio di tutti No, aspetta, tu devi farmare, Jacopo Ah, ah sì, sicuro? Eh sì sì, tu ci metti molto di più a scalare, fidati, con Luciana P Meglio se farmi tu Oh, grazie, Sam del sub e benvenuta, cara Benvenuta nella Felix Army Andiamo a dar fastidio, dai Arrivo Mamma mia che lentezza Ma Sivir ha 3.35 di moving speed base, è tanto Ah no, anche Lucian Pensavo avesse 3.25 Non so se era 3.30 forse un po' di tempo fa e poi l'hanno aumentata Sivir, se non sbaglio, c'era meno moving speed rispetto agli altri adicari perché C'ha la move speed passiva, no? Di ulti ce l'ha Ah no, anche di passiva, sì, è vero Oh, questa è nostra, vai Oh 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 E non c'è questo, vai Tutta nuova tua, mi Sam non è un uomo Sam è la ragazza con i capelli verdi-azzurri che ho, a cui ho donato nel primo video Bene Senti, non ce lo meritava Dopo quello smite no, assolutamente Non ce lo meritava, rischiamamo che arrivava a voli e lo prendeva Anche lui mi ha fatto Esatto, anche lui ha capito che la situazione era un po' così Ha compreso Ma come va a farsi il red buff da solo Grazie, Johans No, no, niente, ha fatto la sua emote Anche a via È il mate ottico che, qua, insomma, è capito Sti attenti Zilean, mamma mia che è tornato Grazie mille, caro Guarda che devi farmare, Jacopo, eh Non so se la stessa Ah, giusto Era tu Ti vedevo un attimo preso, però Non capivo Non so, questo blu mi ha fatto montare la testa, lì Eh, sì, lo so Sai com'è? Eh E due Uh, no, l'ho missato Lì Uh 10 HP, che cazzo Bene Ti andiamo fastidio da qua? Prendi lì la boccia Ah no, too late Oh, come andiamo di fastidio da lì? Come faccio io? Non c'ho neanche il mana per fare una Q Adesso non ho più mana per niente Ma riusciamo questa, andiamo back C'è quel c'è tutto Ecco il mana Sì No, forse Un mana flow per andare back No Niente Ok Come stai, Zilean? Grande, by the way Sireletalite è molto bello come pick Concordo Adesso c'ho una Una di radio assurdo Quanto è? 1,3 adesso? Mi sembra Una roba del genere Total ad poi Non è bonus, giusto? No, no, è total Che Sì, 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 è total Ok Il che è fuori la testa Perché si è andato Andato e ritorno Forse è addirittura e mezzo Perché è 71 Cioè, è 71 Di addi Su 83 che ho io Però è soltanto andata Quindi sarebbe 142 E ho 83 Quindi sì, penso sia 105 1,5 Lo scaling È altissimo Che c'è sia l'andata che il ritorno Venga a farmare Che c'è sia un pronti Bastardo Quelli al non me l'aspettavo Certo, scappa questo Eh sì Un po' di onore, no? Oh 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 Forca puttana che cecchinate È 0-3, poverino C'è Voli, vero? Non è molto miraggio No, infatti Bello Madonna Mamma mia che schicca A statura che mi ha tirato Con una scalata Siamo a un punto fermo In gold 4 Metà vita è andata Bang Mamma mia la comment che parte dopo È un po' come Il tizio con la katana Che Che affetta l'avversario E si allontana di spalle E quello si accorce Che è stato tagliato Dopo che lui ormai è andato Tipo i power rangers Che si girano Poi esplode Il mostro nemico Sì Ma come stanno belli lontani adesso Bravi ragazzi 3, 2, 1 Come on Ok c'è il tizio qua Via 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 Non è il flash Possiamo c'erano anche C'è Oh Gesù Cristo What the fuck Non ho flashato in tempo No 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 Oddio 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 Mi è stata dalla scossa Eh ma non scherzano questi Eh no Porca misera Bel match Siamo pronti Siamo pronti Bang Qua è morto Esattamente Gragas Senza l'ulti riz È una bella domanda Eh dai vato Volibear Che sta 4-1 Mamma mia Cattivo Sì sì È fiddatissimo Bene Bene Non c'è la moltifizia Non può fa nulla Io metto la control qua avanti Vai Ecco Proprio l'autoattacchino finale Minchia 0-5 sta sto tizio Poveretto Povero Ophelius Senta lei Va bene Chi arriva Volibear Se arriva voli Lo distruggiamo Oh bello bello Eccolo lì Aaaaaa Uccidiamo Ma è mortale Sto co Si stai pullando Pensavo non c'avesse la passiva Dico Ad arrivato Gragas può stare che c'è la passiva ancora Oh ma quanta Oh basta intarmi con cose Comunque Non mi sembra giusto 6-1 Mamma mia Eh ma è gigantesco La passiva non me l'aspettavo Non me l'aspettavo per niente La passiva Conoce la passiva senza riduzione Cuore è mortale Volibear Guarda lì 1500 hp Un botto di arco Dai ragazze Trovo Qualc'è Lo smite che l'ha reso famoso Si Di Gragas E' tornato Vai vai Infastidisce Eh no Qua abbiamo un po' esagerato Gli atto Io non so cosa dire Perfetto Due stacche riprese Questo è uno showdown enorme Eh non ho nulla purtroppo Che maledetta Io ci vado Bastardi Ecco Ma che cazzo Ok La prima volta che vedo Finire bene Una cosa del genere Vabbè ma c'è uno scudino Poi boh Bellissimo Due maiali Mamma mia Uno peggio dell'altro Più in fila indiana Sono beccato 800 gold Con sta cosa qua Olle Sì sì Sono messo proprio in fila Sì 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 Oh Calmiamoci Ok Non mi sembra onestissimo Qualcosa No assolutamente no Mamma mia che fastidio Eh no Questo mi insegue a salire Ma quanto è veloce È veloce ed è anche enorme Ciao Sì sì Spara Spara Gragas ha fatto il 6 Ottimo Meno male Ci pensa Gragas Stai tranquillo Minchia il 6 Tre livelli sotto di me Ma come il nostro jungler Tre livelli sotto di me Ups Sì Sì le ferite gravi Sì però Non è nostro problema Che cazzo Dopo ci pensiamo Sì infatti Prima ci vuole Non mi buildo ferite gravi Adesso per la sua passiva Ci vuole il cuor E ciao Volibert sta Asfaltando tutto Sì L'honor è il rastro Sì Guardiamo il lato positivo Gragas è abbastanza forte Da farsi i Krags Adesso Meno male Deve solo Trovarli O torna alla erd il grump l'ha smiteato molto bene ha 50 hp tipo vuole esserne sicuro questa volta mi ha dato 70 gold sono stack eh si vuole più l'ap che mi da di matcha ok voli non è qui ma che danni gli faccio di Q adesso mamma che boss oh c'è voli corriamo qua oh questi ci shottano corri corri aiuto nooo colpisci madonna santa non so cosa fare contro quel coso è un incubo ferite gravi ma cosa dobbiamo fare che ferite gravi gli facciamo 50 danni all'altro attacco zed ha fatto tutta la combo prima e poi ha ultato giusto rivoluzionale non se l'aspettano oh nemmeno questa se l'aspettano no assolutamente l'unica cosa che posso fare è prendermi movement speed per scappare da voli voli eh con la yomus ce la fai speriamo io non ne son tanto sicuro se mi tengo la r dovrei riusci a farcela scappare rw io devo tenermi la ulti soltanto per scappare da volibear capito in pratica ok me la son giocata un po' male ma l'ho killato alla fine oh 500 gold di fizz non li buttiamo oh oh porca miseria per dincibacco flash heal proprio per scappare eh si dai tutte le precazioni necessarie ma non si faccia ma ho fatto prendere un colpo ho visto ho visto mi sono spaventato io appena ho visto la sua immagine nella minimappa non posso immaginare te come come ti sei sentito come ti sei sentito ma madonna satta ho one shottato no con questo buff l'ha resa troppo forte metallico ah è stato un piacere Jacopo addio eh guarda che tra un po' ci rivediamo eh mi sa che tra un po' vabbè invece rivediamo eccolo lì eh eh si vabbè dai ma cos'è vai 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 spalla eh ma è du mai ma che cazzo è così non si può fare Jacopo dobbiamo stracci lontani da lui fai qualsiasi cosa fuori di starlti lontani maestro che c'ha dead's man non riesci nemmeno a distanziarlo manco cosa hai fatto l'hammera si ho fatto ma che disonesto proprio Wit Sen si sta facendo comunque c' è solo lui gli altri sono degli aborti però il problema è che il nostro team Lo è composto da abort, quindi non lo so Ci abbiamo Garen No, magari Volibear non è Iron Non so se Smarth è particolarmente bravo Però Gli altri fan schifo Il problema è che lui sta carriando da solo È che In sé poi è un champion Difficile da uccidere Ops, scusa Il problema è che anche il mid laner fa schifo Non è soltanto lui Non è solo Gragas Il risciato è tuo Uè, va bene Ma avevo usato la E, perché mi ha stunnato? Vabbò Cioè, FizzBot Però Non gli dico nulla io Io non so se farmi un altro CD Mi sa che è me top Faccio l'ultimo 10 CD E poi faccio il Morel Eh, forse è Zonya Ti può aiutare Sto Gragas comunque In inting mode Nooo Ma ho tutto usato Aiuto Aiuto Mamma mia Quanta roba ho usato Ho usato Ulti Ghost Yomo e Flash E sono scappato Con 50 HP E' impossibile scappare No, no, no C'è un po' di capire Ma mi stai guardato qui Era guardato E' finita Jacopo Scappa Ecco Nooo No, Jacopo scappa Maledetti Maledetti L'ho usata L'ho usata la E Mi ha salvato la E Cazzo Ma ho mangiato lo scudo Se l'ero schiantato Cioè non è che se gli parlo la Q Cambia qualcosa Perché usa la sua E Mi slow E poi mi massacra Perché è 50 volte più veloce Che inferno che è sto tizio Io posso ammazzare senza problemi Aphelios E Bard Però sto dicendo Come lo tiriamo Ma dovremmo trovare il modo Cioè la c'è Garen che sta facendo cose Dovremmo Cioè dovremmo trovare il modo di Di starci lontano Di vincere senza Che lui venga interpellato Diciamo Oh Poi possiamo fargli amare Vai ulta ulta vai vai Ma come double kill Aiuto Eh aiuto Ma ha fatto 3 kill di fila quel tizio Ma chi è morto Cioè da cosa sono morti questi Che fizze stava su ero Non lo so Da Bard Bard ha fatto triple kill What? Non so come Ma Bard ha fatto triple kill Vabbè Un shutdown succoso Dai Prima è che è morto Anche Garen top Contro Volizer Che adesso Si sta facendo la 30 Sarebbe questo da prendere Riusciamo a prendere lo Drake Finché Volibear non c'è Non credo eh Sta arrivando da qui comunque Possiamo provare Deriva da dietro se non te ne vai Jacopo Eccolo lì C'è Zed A poste Ma no Colpa stella Mi si è attivato l'oggetto Ecco Eh no eh Vai 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 Buono C'è da un enorme Fiatelo C'è ripensato E questo Vai 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 Mamma mia Mamma mia Stacchi me c'hai Byron ce la facciamo Si si Andiamo Comunque finché Gragas Dà la panzata in avanti E ci pilla così Riusciamo a vincere Dobbiamo stare dietro a Gragas C'ha un Un ottimo scritto Sacrificare Si si E' la panza E' la panza O comunque ci hanno seguito tutti In questa call Non capita mai Te lo sicuro Drake e Nashor E' buonissimo Poi è un Drake pure super utile No Vai 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 Mamma mia Oh doppio shutdown C'ha altri soldi Ah no ok I'm pissed Ho insta flisciato Ma ne vado Strate No Eh no Eh no 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 E' rip stuck Rip stuck E' rip Nasher Volevo il morello Volevo Nessuno C'è da così Rik E' nessuno Ok va bene Siamo in E' che Sono successe le cose Che mi hanno confuso Oppala Eh no Gagasperò Insomma Mannaggia Oddio Oddio Garen No Garen No 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 Qua si gira Volidar E' finita E' finita Oh c'è Rizzo dietro Oddio Non l'avevo visto Ma da dove è arrivato Dalla jungla Non so Non è nemmeno il TP Ha fatto un giro stranissimo Ciao Fabio Magari non si accolta Che stavano folluando Ma lui era troppo veloce Ma no Dai Si ne pull Eh Non c'è ancora il monello Forse l'aveste ucciso Occhio a quello Dai che sto rinascendo Eccomi 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 Go 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 Prendiamo Aphelios Ae Scoppiato Bot Vogliamo pushar Mito Andando al bot Andiamo Non saprei Io prendo il monello Ah no C'è nato Gragas Vabbè Ando back lo stesso Non stanno arrivando qui da me E' vero Ok Il monello Mi serviva E ce l'abbiamo Ce l'abbiamo A riduzione di cuore Rick Bravo Io non ce l'ho Perché ho preso la GA Però No Ma ne basta uno C'hanno solo lui Che sei cuore Sì Sì esatto Solo che anche io Avrei voluto prendermi Penetrazione armor Non ho Ah beh posso Togliere le guardie brutto Però insomma Potrei togliermi L'oggetto da support Effettivamente Oddio Gragas Questo rass Non è male Cioè con Ha scazzato tutto all'inizio Però A parte il fatto Che ha perso Con gli smite Con i giri Aciugle Eccetera Però con le ulti Ho ucciso Ho ucciso un tizio No 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 Oh yes Oh yeah Che precisione C'è il drag up Pure volando Sì facciamo il drake Non riusciamo a prenderlo Quello Mica che game Complicato Comunque Vai vai Famolo Nuvido Adesso che ancora L'ho Buono Ho la ulti Ogni 35 secondi Eh voli 1v no Veramente Cioè Fitz non fa schifo In confronto Agli altri suoi alleati Ma gli altri suoi alleati Sono degli aborti Fa veramente schifo Oddio top c'è voli No scappa Garen Aiutiamolo Aiutiamolo Occhio che c'hai voli Nel fiume Oddio che è già Già passato Il punto C'ho vorrei Che stia qua Vuole No non è qua Ah è andato mid Ok Eh la porra è tanta Corri Appena l'ho visto Reflessi proprio condizionati Vediamo un po' di muo In sfida A destra e a sinistra Che è un po' al comodo Viatelo Eh no Eh no Eh no Jacopo Ecco Eccolo La mia Q è sparita Ma da quando? Non è come la Q di Echo Era una kill quella Ma what the fuck Non ha senso sta cosa Mi sa che si fanno il Baron Lore adesso Alto che Eh sì Mi è colpa Mi è colpa I nostri amici sono Botlin Vabbè niente Ancora una Volibear Io non c'ho paura Avete capito? No no Io vado Non ho paura Ecco qua Ok Non se lo stavamo facendo Come ultimamente fai Il coso Quello Il cappuccio Quello là Che te ha lo scudo No no Pensavo di farmi penetrazione Perché c'è un botto di arco Eh quello da pure penetrazione Quello da un po' di letality No ma io parlavo del Del mortal reminder Ah è vero Poi questo è pieno di armor Sto dizio Sì Così tolgo anche un po' di cure Cioè non so spendere quello O quella Mamma mia No 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 Che si mi torna un attacco muore Ok Mi stavo per beccare la scossa Mamma mia Ma what the fuck Che combinato Garin Avevo pochissimi HP Ed ero vicino a tutti gli altri Se Volibear avesse tirato Un autoattacco su uno Mi beccavo la scossa Che rinunci Come on zed do something Poveretto C'ha due item e mezzo ancora Nice try Oddio Via Oddio Mamma mia I want to move speed to die Eh quanti ne do L'avevamo buffato 60 secondi Che però Scende a 30 Ok Sarebbe questo da prendere Se non è male E voglio vedere il grafico dei danni dopo Che cazzo ci dice Oh Oh no Ah è secca Ecco qua Mamma mia Quante cose sto vedendo Non penso blocchi la passiva di Fizz Gold Cioè non è che ti impedisce Prendere down Ti blocca un'abilità La passiva di Fizz Che sta andando Non l'avrei bloccata L'hai bloccata forse prima Non lo so Ma non durante Eh no Jacopo è finita Eh Eh no Eh no Eh però te la sei cercata Spara Spara Che fatica ragazzi Ho mirato le ginocchia Mamma mia Ricca Mi sento l'adrenalina Mille Non so se prendere il Lord Dominic Col mortal reminder Sai Cioè è così importante Interrompere le cure a tutti O avere quel 10% in più di Secondo me è meglio togli Togliere cure Anche perché io ho notato Che col morello Tolgo le cure Solo con Col proc dell'ego E della w Perché il resto è tutto D'anno a dire Quindi Non è proprio È vero È vero Eh dovresti farti tipo Il Nashor Tutte cose del genere Eh no Però mi sa Voglio far meno A me piace più la build One shot Su sto champion Ma certo No no Ovvio che è più forte E soprattutto più divertente Eh comunque Siamo gli unici Quindi meglio così Prendiamo questo Eh Cosa stanno facendo gli altri Ah Gragas è morto Cioè che Andiamo a dare una mano a Gragas Andiamo a vendicare Gragas Vai che non ce l'hai Oh Per D'incibacco Questa era un'uscita La fragola Questa Sto arrivando Voli No 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 voli Scusa Scusa Voli Dimmi che non sei qui dentro Ok Jk vuol dire joking Vuol dire sto scherzando Just kidding Just kidding Ok Comunque è la stessa cosa È sempre quello Just kidding Esatto Just kidding Solo un gatto Sì Esatto Capine Stessa cosa Esatto Gragas Quattordici Zed Cinque dodici Mmm Ma prego Joks Comunque cinque secondi e mezzo Di E È abbastanza forte Beh che è arrivato Un punto in cui Se mi beccano Sono morto Però Se Zed C'è stato proprio dentro No ragazzi No No Qualcuno Se vorrebbe portar via Sfrutta la move speed Se o Ha imbrogliato Oppala Vai vai Aiuta Alle ginocchia Alle ginocchia Ricca Mamma mia L'ultimi 30 secondi Oh accidenti Via via Corri No No Per favore Sono un uomo Con dei figli Ho una famiglia Da mantenere Ok Ok Ho usato Lo ult Andiamo Andiamo Lo ult In pochissimo Via Oppala Volevi Sacco di merda Oh che bello Chiudiamo No c'è Voliber Forse conviene il Nashor Effettivamente Sì infatti Con Voliber Vio può essere morto Tutto il resto del team Ma non possiamo fare niente Comunque avere la ult in 30 secondi È troppo forte Poi tra un po' Ci abbiamo pure L'anima e il cloud Sì Ok Io faccio una marea di danni Comunque a fine mi ha salvato il Nashor Tooth Perché da troppo L'attack speed mi fa proprio più danni alla ult Sì Vero C'è il track in 30 Secondo me Io starei qua sinceramente Io pure me lo farei Eh no Vaffanculo Ma ci stava Fizz lì dentro Mannaccia Disonest Eh un minuto Gragas poi è top Quello ci fa stracomodo Io ci avrei la ult ogni sempre Potrei vendermi la GA Oggi Mamma mia Che danno Oh Oh Ho posto così Ho preso lo scudino Ho meno cooldown sulla ulti Che sulla yo Vabbè Lo c'è Tra 17 a 7 sta quel tizio Ok Ma mi sono fatto lo scudino io Ah è super good Legend of night Sì Avevo ancora due minuti per la GA Quindi Ok Ulti ogni 26 secondi adesso Benissimo La usiamo per passeggiare Io ogni 32 Il secondo item non è scarso Mi serve È veramente utile Perché Toglie le ward Fa molto comodo Ecco La mia ult è finita E ho 18 secondi di cooldown No Gragas Sei pazzo No Jacopo aiuto Sta per succedere Una cosa brutta No Abbiamo fatto Una kill Ma il team nemico Ma il team nemico Oh Un'ottima idea Questa è il vizio Ho visto Bravo Le Oh Ammazzato qualcuno Di più Fa tonno Eh no Eh no Eh no Bene Quanto odio Sono triste Sono dei bastardi Perché non si lasciano Cioè vuoi vedere perché continuano a correre Verso di noi Incredibile 31 auto sta questo Fiere che c'hai più consigli Ecco qua Prego ragazzi Prego Zed vuole finire 5-15 Meno male Vediamo se c'ho la GA Sì che ce l'ho Vai Sempratico non c'abbiamo gd sulle ulti Cane non c'avrà una roba tipo 40 secondi Su una ulti che fa 2000 true damage A questo punto del game Eppure facciamo C'abbiamo ancora difficoltà a chiuderlo Eh Ma è tutto per lui eh Per Volibri Gli altri non esistono Oddio Fizz fa male eh Però è gestibile alla fine perché è stupido Vado a prendere l'elisire Sì 45 minuti di game Effettivamente Arrivo Vai tanto c'è coso top Oh Aiuto Ok Ok ti ho ripensato Oh possiamo chiudere Quello là continua ad andare top Eh sì Bella per Urgot Eh sì L'inibitor è molto importante No Zed è andato back Vabbè Ma va bene Vabbè Meglio tanto è inutile Sì Così fa anche meno danni È vero Fa più danni a noi che agli altri Oh le Bella per Urgot I colpi nelle ginocchia Non falliscono mai Mamma mia Porca pittana C'era veramente un ride boss Sto tizio qua Io voglio vedere il grafico dei danni Fatti e subiti Io ho recuperato qui Perché Avevo iniziato malissimo Però mi sa che ho fatto Un buon numero di danni dopo Mamma mia 71.000 64.000 Voli per 65.000 Guarda lì che danno Danni presi Vediamo un po' Lei è mistaken Dov'è Eh Voli per 80.000 danni subiti Porca miseria E non è morto Cioè è morto poco 9 volte Non è che dice un tizio che è morto Non si sa quante volte Allora le azze cavolo C'è danni presi alti Eh no